Nella domenica in cui si registra la vittoria del campionato più sonora 7 a 0, il Taranto raggiunge anche la matematica certezza di non poter più raggiungere il primo posto per la contemporanea vittoria in trasferta del Picerno che sa la quota 77. Finisce 7 a 0 come dicevamo contro il Granata Ercolanese, il Taranto si schiera in maglia bianca davanti a poco più di 1500 spettatori, gli spalti ovviamente rispetto alle gare precedenti sono apparsi desolatamente vuoti. Al 22esimo si fa pericolosa la formazione ospite con una conclusione di Arcello ribattuta, poi il primo gol giunge 6 minuti più tardi al 28esimo a realizzarlo è Favetta su assist dalla destra di Esposito, colpo di testa nel numero 94 per l'1 a 0. Il raddoppio giunge 9 minuti più tardi, sempre Favetta e sempre Esposito l'assist dalla destra, questa volta il centravanti ionico sfrutta uno svarione difensivo e fissa il punteggio di 2 a 0 con il quale si va a riposo. Nella ripresa Favetta resta negli spogliatoi, entra in campo Croce e dopo 2 minuti c'è un tiro di Francesco Esposito respinto da Pellegrino sulla ribattuta, mattera a botta sicura ma Menna salva quasi sulla linea. Il gol del 3 a 0 giunge poco più tardi all'ottavo minuto e lo segna Croce di testa su assist questa volta dalla destra di D'Agostino. Al 16esimo si fa pericolosa l'Ercolanese con un'azione prolungata nell'area di rigore rosso-blu e bravo prima Pellegrino a respingere e poi di Bari. Al 24esimo il Taranto fa poker con disenso entrato in campo 4 minuti prima al posto di Uggiano. L'assist anche questa volta è di Vittorio Esposito che firma il suo terzo assist personale, Taranto 4, Ercolanese 0. Al 26esimo c'è un'acrobazia di Croce in area di rigore, pallone che termina di poco alto, bello il gesto atletico dell'attaccante rosso-blu. Al 28esimo c'è una bella parata di Pellegrino su conclusione velenosa di Castagna, primo intervento del portiere del Taranto di un certo livello. Al 35esimo il Taranto fa il quinto gol con disenso che firma così la sua doppietta personale. Due minuti dopo a segnare per il Taranto il gol del 6 a 0 è Massimo entrato in campo poco prima al posto di Bari. e infine fissa il punteggio sul 7 a 0 finale proprio Vittorio Esposito nel primo dei 5 minuti di recupero.